Entra nel vivo l'edizione numero 727 della perdonanza celestiniana, prima dell'arrivo del fuoco del morrone il 23 agosto con l'accensione del tripode che darà l'avvio ufficiale alle manifestazioni celestiniane. C'è stata la cerimonia di passaggio di consegno degli emblemi storici della perdonanza tra i figuranti dello scorso anno e quelli attuali. La perdonanza è tutto l'anno e ogni anno si rinnova e si rinnova anche attraverso momenti come questo in cui i protagonisti del corteo di un anno passano idealmente a stuccio, ramo, cuscino e croce ai loro successori. È un modo per segnare la continuità di una festa che non conosce limiti temporali, non conosce limiti territoriali, è il messaggio di celestino universale, di pace, di fratellanza, di riconciliazione. La dama della bolla 2020, Desiree Biccire, ha consegnato l'astuccio in cui per secoli è stata costruita la bolla del perdono di Papa Celestino V alla dama attuale Marianna Capulli. Il giovin signore dello scorso anno, Massimiliano Fornella, ha consegnato a Federico Santilli il ramo d'olivo con il quale il cardinale Enrico Feroci toccherà per tre volte la porta santa di Collemaggio per ordinarne l'apertura e dare inizio all'indulgenza plenaria. Passaggio di consegna anche per la dama della croce, realizzata da Laura Caliendo e affidata da Angela Marrone a Martina Ciccone. Una cerimonia istituita dal comune ormai da tre anni. Il corteo, anche quest'anno a causa del covid, si svolgerà in modo statico. Il valore principale di questa perdonanza è quello della formazione come città che riesce a riscoprire se stessa e a far riscoprire ogni singolo individuo grazie a tutte le opportunità che offre in termini proprio di formazione. Sicuramente è per me un grande onore rappresentare tutto il mondo della formazione che, ripeto, rappresenta a tutto tondo, dagli insegnanti ai collaboratori scolastici, all'apparato amministrativo, dirigenziale, agli educatori. Essere qui a rappresentare appunto la mia città nelle vesti anche di medico, cioè che è il mio sogno, è sempre stato il mio sogno fin da bambino, è un'emozione incredibile, unica, anche perché sono innamorato sia della mia professione sia della mia città da sempre. E sono davvero felice di poter rappresentare appunto la mia città in queste vesti. Sono molto emozionata, ho sempre vissuto la perdonanza da fuori, ho sempre visto i tre figuranti sfilare appunto dall'esterno e esserci adesso ancora non mi sembra vero in realtà, devo ancora realizzare ma è un onore per me veramente.